Il Torbolano Nicolò Renna è medaglia d'oro Under 17 agli europei tavoli a vela classe RSX. La tradizione del circolo surf Torbole si rinnova con nuove importanti vittorie in campo giovanile che fanno ben sperare in vista del mondiale della stessa classe in programma proprio a Torbole dal 24 giugno al 1 luglio. Tutto è successo nel weekend scorso. Nicolò Renna, figlio d'arte dello storico istruttore Torbolano Vasco, ha conquistato il gradino più alto del podio al campionato europeo della tavola olimpica categoria Under 17 disputato a Marsiglia in Francia. Il campionato si è deciso con la disputa di otto regate durante le quali Nicolò è riuscito a mantenere una buona media nella classifica youth assoluta che gli ha permesso di superare di 17 punti il francese Fabien Pianazza, vecchia conoscenza del Circus Tecno 293. Così come il greco Tzortanidis che proprio ai mondiali Tecno 2016 soffiò la medaglia di bronzo a Nicolò, ora terzo Under 17 a Marsiglia. Per Nicolò una grande iniezione di fiducia in vista dei mondiali youth previsti al circolo surf di Torbole.